...guerro che benedetta dal leato Paolo VI nel 1965. Tra poco sentiremo il senare e il rintocchi della campagna. Che sia la auspizia, che non più rischia non più, mai più la guerra. Ma sempre desiderio e impegno di pace e di fraternità ai popoli. Buon anno a tutti, sia un anno di pace, di pace, nell'abbraccio di tenerezza nel Signore e con la protezione sia Madre di Dio e Madre nostra. Saluto a tutti e vedo che ci sono tanti messicani, gli altri mi saluti. E sono rumorosi i messicani. Buon anno e per favore non dimenticate di pregare per noi. Buon pranzo e arrivo. Buon anno a tutti.